sono carlo dolci pittore fiorentino del 600 e sono così a 58 anni allo sguardo stanco ma sincero di chi non mente gli occhi incavati rivolti verso l'anima verso i ricordi verso il tempo che basta e che soffro da sempre di malinconia brutta bestia vorrei star bene e non avere più questo carico di pensieri di ingombri ho il naso lungo affilato le labbra fini con su dei capelli irrati troppi nelle tempi e troppo pochi sulla fronte si chiama amor del vero io ritraggo solo quel che vedo con minuzzi cura zello senza filtri mania di perfezione ma le cose vanno fatte per bene se penso a pittori del mio tempo che pur di vendere fanno quei dipinti a tirar via come luca giordano pittore napoletano giusto per farsi pagare prima è che io sinceramente in questo ritratto non riesco a guardarmi proprio vi voglio far vedere come ero prima quando ero giovane con il cappello in testa la barba disegnata l'area disinvolta e le pansne le lenti le lenti magiche con cui non mi sfugge nulla dicono che il disegno si trovi ancora nella mia firenze dopo oltre tre secoli dalla mia morte pensate un foglio di carta sopravvive oltre noi e grazie all'arte l'unico vero filtro contro il tempo buono 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 Grazie a tutti